Un quadrilatero da Far West lo definisce così il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari il fazzoletto di città di Pescara composto da via Quarto dei Mille e Corso Vittorio Emanuele, via De Amicis e piazza Santa Caterina. Residenti, commercianti ma anche cittadini che transitano per lo shopping o il lavoro nel centro di Pescara ci chiamano disperati, ha detto Pettinari, per segnalarci situazioni al limite della decenza. La situazione non migliora nell'area di risulta davanti alla stazione centrale sia nella zona del terminal bus che in quella dei parcheggi. C'è qui giorno e notte un bivacco di delinquenti, criminali, spacciatori di droga, persone che bivaccano davanti alle vetrine, vomitano l'altro giorno ma spesso ci sono risse, violente, ci ha raccontato il titolare di un negozio qui schizzi di sangue sulla vetrina. Voi potete immaginare quindi questi poveri commercianti, nonostante la pandemia, sono costretti tanti a chiudere perché i cittadini onesti, le persone oneste hanno paura, non passano più in questa zona, quindi stanno diminuendo notevolmente il fatturato. Ma da qui ci spostiamo nella vicina piazza Santa Caterina, un'altra terra di nessuno, dove spaccio di droga, bivacchi, gentaglia, delinquenti che mettono a rischio la vita dei cittadini onesti. Ecco, inizia tutto nelle tarde ore mattutine possiamo dire e dalle 5 in poi il pomeriggio fino a tarda notte. Qui nel parcheggio le donne hanno paura ad andare a riprendere la macchina la notte perché vengono avvicinate da parcheggiatori abusivi che sono ubriachi, delinquenti. È una cosa vergognosa per passare all'area di risulta anche lì pericolosissima, poco illuminata. Ci sono situazioni veramente da terzo mondo. Noi chiediamo che cosa? L'unica cosa, quello di mettere una pattuglia appiedata, una vera e propria ronda, o di due poliziotti, forse di polizia, ma anche un vigilo urbano, un'agenda della polizia municipale. Lei ha proprio il negozio qui nel Corso Vettorio Emanuele. Che accade qui, diciamo, il pomeriggio, la sera in particolare? Ci sono dei problemi? Sono tanti i problemi che accadono, tutti i santi giorni. Noi lavoriamo di fatto solo la mattina perché il pomeriggio siamo costretti a chiuderci dentro per paura, per paura di tutto quello che vediamo perché ci sono persone che si ubriacano, che litigano, non c'è mai nessuno che viene a controllare, sono pericolosissime, per cui per paura che entrino e ci facciano del male, purtroppo ci dobbiamo chiudere dentro.